Bentornati su Radio Design, sempre qui dall'Istituto Italiano Design. Io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing e con me oggi c'è Francesca Antonini, benvenuta. Buonasera, grazie, l'invito. Allora, tu sei una fashion designer, quindi abbiamo avuto modo nel tempo di avere qui tantissimi tuoi colleghi e colleghe. E intanto ti chiedo, qual è stata la tua formazione e come è nato poi in te il desiderio di diventare un fashion designer? Allora, il desiderio di diventare un fashion designer è stato un po', diciamo, istintivo, nel senso che sin da piccola ho imparato da sola a fare, mi è stata insegnata la mia madre a fare i vestiti da sola, a farmi carta modelli vestiti da sola perché non trovavo le cose che mi piacevano. E da lì poi ovviamente si è evoluta in una forma appunto di espressione o comunque di indipendenza mia da certe cose e poi nel tempo, pur sapendo disegnare, ho deciso di iscrivermi all'università di Urbino perché ai tempi c'erano, diciamo, solamente due università importanti a livello statale che funzionavano, che era il polimodo e quello di Urbino, e in realtà ho rischiato di diventare ingegnere perché io ho fatto il liceo scientifico, sono molto brava in matematica e in materie, diciamo, fisica e queste cose qua, però l'esame d'ammissione per, io volevo fare ingegneria allo spaziale all'università di Urbino allo stesso giorno. Il destino ha scelto per te. Sì, ho scelto io perché, e quindi alla fine poi ho fatto, però devo dire che l'impostazione, non ingegneristica, però abbastanza scientifica, mi è rimasta perché io mi interessa sempre molto sapere come vengono fatte le cose, come si costruiscono, eccetera, e poi ho una, diciamo, infatti da questo punto di vista il mio percorso è abbastanza 360 gradi, nel senso che mi so fare cartamodelli, conosco molto bene i materiali, sono specializzata nella ricerca e sviluppo di materiali nuovi, e quindi anche di nuove tecniche di manifattura, di realizzazione, per cui, diciamo, quell'imprinting, pur avendolo abbandonato il giorno dell'esame, comunque mi accompagna. Allora, intanto, quali sono stati i primi tuoi passi in questa carriera, diciamo, e poi cosa sei oggi? Allora, i primi passi sono stati che sono stata abbastanza fortunata perché quando ero al liceo ho avuto la possibilità di, tramite una persona che lavorava in questo settore, di concorrere per una borsa di formazione professionale della CE, e quindi che era, il tempo era il progetto Petra, e quindi appena finito il liceo sono andata praticamente in Olanda a lavorare per questa azienda che era una delle prime che si occupava di produzione in Far East, il capo era coreano. Cosa vuol dire in Far East? Far East dell'Estremo Oriente. Ah, in quel senso? Sì. Non pensavo fosse un prodotto. No, non è a Far West, è a Far East. Il mio capo era coreano e facevamo ai tempi, che erano i primi anni 90, quando ancora qui non esistevano queste catene, io disegnavo per, diciamo, marchi come H&M, Zara, ma in Zara non c'era ancora Mango, oppure, insomma, questi grandi gruppi, che facevano tutta la produzione, appunto, in India, in Cina, eccetera. E quindi il mio primo approccio è stato quello perché ho fatto, ho vinto questa borsa di studio prima di accedere all'università. e quindi questa cosa mi ha dato anche un, diciamo, un valore aggiunto, perché poi quando sono andata a studiare io sapevo abbastanza bene cosa avrei fatto dopo. E poi ho mantenuto questa collaborazione per tutto il periodo universitario. E poi una volta finita l'università ho fatto un corso di specializzazione presso questa scuola internazionale di calzature e pelletteria che si chiama Cercal in Romagna, nel distretto calzaturiero dove c'è Casadei, Sergio Rossi e loro, come tecnico della forma. E quindi poi dopo queste cose mi hanno dato, diciamo, un valore importante perché a quei tempi ancora non c'era moltissima gente che, innanzitutto, che faceva il fashion design e che aveva esperienze già all'estero. E poi ancora non c'erano tantissimi che facevano anche accessori o calzature, soprattutto se andavano in un'azienda che faceva total look, perché ai tempi era molto diviso, anche le fiere erano molto più divise, anche come tempistiche, come cose. Invece adesso ovviamente tutto molto più, diciamo, fuso e soprattutto gli accessori sono una parte molto importante del fatturato di molte aziende, anche il grosso. Quindi questa cosa mi ha dato un valore in più e poi con il tempo c'è stato un percorso, però, diciamo, mi sono formata soprattutto nel prodotto di ricerca, di nicchia, di alto livello, high-end, insomma, e quindi questa è. Però con una formazione sia di prodotto che di fashion designer che di gestione. Per un periodo ho avuto anche una mia collezione uomo che presentava a Parigi, quindi, diciamo, ho fatto varie cose. Hai fatto un po' di tutto. Mi sono impegnata. Allora, la domanda che facciamo un po' tutti è dove sta andando, secondo te, questo settore e quali sono i paesi che magari traineranno fra i dieci anni questo mercato a livello di design? Allora, beh, adesso il problema è che, e non so come dirti, il design non è più solamente design, quindi l'importanza da un punto di vista creativo, il design è diventato anche importante da un punto di vista retail, no? è comunicativo e quindi il fatto è che tu possa essere anche, possa avere le risorse per, diciamo, raggiungere determinati volumi e soprattutto essere presente in determinate cose. Per cui, da un punto di vista di mercato, trainante sono ovviamente i mercati emergenti, che possono essere la Cina, che anche se adesso tutti parlano che c'è una normalizzazione nel mercato, perché loro, anche se sono in crescita, ovviamente non essendo in crescita tipo del 20%, per loro solo al 10% sono in crisi, e poi molti si stanno rivolgendo anche ai paesi tipo Messico, Africa, eccetera, come mercati emergenti, perché ovviamente tutti quanti stanno cercando di, siccome devono crescere, di involume o mantenere comunque, supplire a quei mercati, ai mercati che stanno, diciamo, un po' in depressione, come può essere l'Europa, per esempio, e allora cercano nuove fonti di adepti, tra virgolette, e ovviamente di volumi. Però dal punto di vista design, per esempio, ho fatto un corso adesso, una masterclass in Cina, e la Cina, c'è molta voglia adesso di avere una propria creatività, una propria identità creativa, perché loro per il momento hanno sempre, soprattutto si sono, diciamo, ispirati, a quello che è la realtà occidentale, perché hanno avuto, ovviamente, per ragioni storiche, un vuoto di arte, di tradizione, eccetera. E quindi adesso c'è molta voglia di creare una propria identità creativa, di affermarsi a livello internazionale con un Made in Cina che rappresenti, se non il lusso, almeno un qualità ed eccellenza, che cosa fino adesso non c'è. Quindi quello che si stanno domandando loro adesso è come possiamo fare questa cosa. E allo stesso tempo ci sono sicuramente delle, un occhio a tutte e tante altre realtà che sono quelle dei paesi emergenti, può essere l'India o anche il Messia, o altre, di designers che riusciranno, magari prima o poi, ad affermarsi da un punto di vista internazionale, perché comunque le realtà, ovviamente ci sono, non è che comprano solamente Made in Italy, Made in France, però non riescono a diventare, non so come dirti... Come percezione, non è quella che abbiamo noi nel mondo. Sì. Per cui l'interna... diciamo, la voce internazionale, secondo me, sarà una delle prossime tendenze. Un po' perché ovviamente anche il mix, il melting pot culturale ha sempre dato voce a delle cose interessantissime. e quindi sicuramente questo melting pot che sarà di successo, comunque che crea la giusta alchimia, permetterà magari che emergerà il nuovo designer cinese o il nuovo designer africano, il nuovo designer che riuscirà comunque a... la moda è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e quindi creerà questo nuovo stile, questo nuovo... speriamo, no? Noi siamo qui a guardare. Mentre tra gli accessori, no? Qual è l'accessorio che sta venendo fuori una novità, un qualcosa che prima magari era un po' sopito e invece adesso diventerà il must? Allora, il must che è diventato, diciamo, nelle ultime stagioni più di sorpresa, i due must che sono diventati più di sorpresa e che nessuno avrebbe immaginato sono state la ciabatta, la ciabatta proprio quella classica da palestra, doccia, capito, a fascia, che è uno degli articoli di Gucci più venduti, anche perché ovviamente sono anche gli articoli più facili da vendere, nel senso chi vuole accedere all'idea del lusso una ciabatta se la può comprare più facilmente che ovviamente un outfit Gucci dalla testa ai piedi. E un altro accessorio che, diciamo, è stato sdoganato che era, diciamo, non visto come molto glamour precedentemente è il marsupio, assolutamente. Il marsupio? Il marsupio. Marsupio, anche femminile, ovviamente, non come quello di nylon del turista che mangia, come si chiama, il camoille all'autogrill, ma una cosa, diciamo, un pochino più curata. Il marsupio fashion. Sì, sì. Il marsupio è proprio stato un accessorio che è molto sdoganato. Poi, ovviamente, per esempio, se uno guarda la collezione della linea di accessori, l'ultima di Karl Lagerfeld, che è defunto recentemente, lui ha fatto degli accessori molto carini, molto anche giovani, nuovi, quindi, come si diceva, la moda cerca sempre qualcosa di nuovo e quindi questo è diventato lo spunto, è stato un articolo accantonato, negletto, per tanto tempo e ora ha avuto la sua rivalta, il suo momento di notorietà, ecco. Quindi, quest'estate, tutti con ciabatta e... Ciabatta già c'erano. Lo dico, la combo micidiale dell'estate sarà ciabatta più marsupio. Ma la moda adesso, diciamo, la moda con il fatto che le nuove gire, innanzitutto, si è molto, parlano tutte a livello di retail che deve essere consumer centric, nel senso che il consumatore è diventato il centro, diciamo, è una, parlano anche di moda più, è l'uso più inclusivo, nel senso che non è più una cosa che cade dall'alto ma viene, no, dalla strada dal consumatore. Certo. Questo perché ovviamente con la rivoluzione digitale, con il culante, anche. Esatto. La rivoluzione digitale, i big data, permesso alle aziende, per loro adesso i big data è il nuovo oracolo, quindi loro leggono queste cose, quindi si adattano moltissimo e cercano di essere sempre più vicino al consumatore, ok? Quindi, la moda ora con le nuove generazioni, perché millennials sono, o generazione Y, sono i nuovi consumatori del lusso, e il lusso è quello che determina, no, la linea che ha tutto il fashion system, hanno una, una, anche una percezione della sessualità molto più fluida, no? Molto più, non così categorico, o è, trasversale, esatto, più trasversale, più aperta, diciamo, comunque questo è, metrosexual, esatto, sta crescendo da un punto di vista, quindi anche l'abbigliamento non è più così, chiaro, chiaro e sessuato, no? Non so come dirci. Infatti io, banalmente, quando vado a comprare, dico, figo questo, poi la gente che con me dice, sì, ma questa è la donna, faccio, ma io non sto capendo più niente. Può essere, sì, come tante ragazze, quindi, già lo street style non è, diciamo, una, un modo di abbigliamento sexy, diciamo, no? Quindi, quindi, però, il fatto è questo, per cui, il fatto che ci sia il marsupo e la ciabatta, che dice che uno dice, ma di grigni ai denti, ma è effettivamente frutto di questa evoluzione, nel senso che poi, magari, come tutte le tendenze, succederà fra un po' o qualche anno, che si tornerà invece a una polarizzazione più, no? Certo. Dei sessi, eccetera. Però, per il momento, questo è, quindi, molti stilisti anche fanno sfilare, che ne so, i stessi, in passerella, gli stessi capi messi da donne e uomini, proprio a sottolineare, però, ovviamente, questo implica un certo, no? Comunque compromesso, il fatto che, non può essere troppo, di un certo tipo, e quindi, è più, devi essere un po' smooth, esatto, più piatto, più, diciamo, più democratico, ecco. Ok, quindi, è sempre tutto più difficile, la sintesi di quello che hai detto fino ad ora, è che, è che tutto molto, baumiano, potremmo dire, in termini filosofici, è tutto molto più liquido, sì, sì, quello sì. se non volevo scomodare Bauman, però, effettivamente, la società liquida, poi, si declina anche nel, nel design. perché, beh, questo, per forza, poi dopo dipende anche dal fatto che, sai, la società liquida è proprio nata dal fatto che si sono rotte delle strutture di valore, rotte le strutture di comunicazione, no? e quindi esiste questo, diciamo, lo chiamano il global brain, no? Questa cosa, questa, sì, questa entità globale, dove tu non hai più bisogno di avere delle cose, di conoscere delle cose, ma hai, tipo, rivolgere a questo, questo cervello elettronico, fra virgolette, comunque, questo cervello virtuale, dove tu, hai le risposte, e quindi, essendo, non essendoci più questi boundaries, questi limiti, è tutto più, sì, liquido. È tutto più facile. Va bene, grazie, è stato molto interessante, poi se torni a trovarci, torniamo su questo argomento, che secondo me è molto interessante, da questo punto di vista. Va bene, allora, per chiudere i tuoi riferimenti, dove ti troviamo? In rete? In rete? Attenzione, parlavamo di big data. In rete? Io sono un po' una... Anti-rete. Allora, ti cerchiamo sui numeri telefonici. No, 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 io diciamo sui social sono solamente su Linkedin, per cui... Va benissimo. Mi troveranno su Linkedin. Cercheranno il tuo nome su Linkedin. Perfetto. Va bene. Grazie mille. ciao. ciao.